Un tris in salsa, bianco-rossa al corlo. Il Barletta passa contro il Fasano per 3-1 e chiude la stagione regolare al quarto posto con 64 punti. Di piazza apre i giochi nella prima frazione. Forbes nella ripresa. Firma il momentaneo pareggio prima delle reti di Lavopa e Cristallo. Moduli speculari per entrambi i tecnici. Tisci per la squadra di casa si affida al 4-3-2-1. Farina in tribuna dopo la squalifica rimediata in settimana. Schiera i suoi con il 4-3-1-2. C'è Lavopa alle spalle del tandem Lattanzio di piazza. Solo panchina per lo iodice a rischio di fida. Il Barletta stappa subito la gara. Al secondo Lavopa arma il destro e ci prova dalla distanza. Palla che fa la barba al palo. Bianco-rossi pericolosi tre minuti più tardi. Contropiede fulmineo sull'asse Lavopa Lattanzio con quest'ultimo che appoggia per di piazza. Il numero 9 ci prova ma la sua conclusione viene sporcata e la sfera si infrange sulla traversa. Barletta che massimizza gli sforzi al dodicesimo con la rete del vantaggio. Lattanzio pesca di piazza in profondità. Il numero 9 si invola verso la porta e da posizione defilata trova l'angolino giusto per l'1-0. I ritmi sono tutt'altro che balneari. Al diciottesimo Menegatti fa buona guardia sull'incornata di Ponso. Al ventesimo invece è Corvino a rompere il ghiaccio per il fasano direttamente da calcio d'angolo. E la traversa ad evitare il peggio per lo vecchio. Un minuto più tardi è ancora Barletta pericoloso in contropiede con il tocco sotto di Lattanzio che si stampa sulla traversa. I padroni di casa escono alla distanza. Al ventiseiesimo il fendente di Manfredi scalda i guantoni di Lo Vecchio. Mentre lo stesso numero 1 Biancorosso disinnesca un tiro al veleno di Forbes agli sgoccioli della prima frazione. Squadre negli spogliatoi. Nella ripresa è il fasano a scattare meglio dei blocchi. Al quarantasettesimo gli uomini di Mister Tisci ristabiliscono la parità con Forbes che su assist di Lo Savio mette nel mirino il palo lontano e trova l'1-1. La gioia del pareggio però dura poco. Sei minuti più tardi infatti Cafagna pesca la Vopà lasciato colpevolmente tutto solo dalla retroguardia bianca-azzurra sul secondo palo. L'incornata dell'ex Molfetta è vincente. 1-2. Al sessantatresimo il Barletta cala il Tris. Il neo è entrato lo iodice serve Cristallo che con un cioccolatino supera Menegatti. Il fasano torna a farsi vedere al settantaduesimo con Battista. Bravo Lo Vecchio ad abbassare la sara cinesca. Nel finale c'è spazio solo per un colpo di testa di Petta fuori misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Barletta dunque porta a casa l'intera posta in palio e chiude nel migliore dei modi la stagione regolare Biancorossi che affronteranno il Nardò in trasferta nella semifinale playoff del girone H di Serie D.